...che hanno vissuto due province che ha come oggetto il controllo del Gran Sassi, i lavori sospesi. Sì, dei lavori che noi avevamo contestato perché a nostro avviso inutili e impattanti, si tratta di 21 perforazioni, sono inutili perché tanto nuove captazioni non si possono fare, quindi cercare acqua in altri posti è un non senso, peraltro con spesa di denaro pubblico, con noi anche esperti del settore, però al di là di questo, ieri il commissario ha divulgato un comunicato stampa facendo il copia in colla di dichiarazioni di una società privata che metteva in dubbio la qualità delle acque, è un fatto estremamente grave e crediamo che sia un fatto talmente increscioso da meritare una valutazione dell'operato del commissario. Voi vi rivolgerete anche alla Corte dei Conti, per danno la reale? Sì, perché qui si sta mandando a scarico acqua dal 2018, acqua che è preziosa, che ha un valore, tutti noi che paghiamo le bollette sappiamo quanto costa l'acqua e se va a scarico un'acqua preziosa, beh, ci sono dei costi ovviamente, è un valore che non viene utilizzato, viene disperso, stiamo parlando di circa 15 miliardi di litri dal 2018, con un valore che si stiene da fra i 15 e i 20 milioni di euro, beh, qualcuno sarà responsabile di questa situazione. Inoltre i laboratori devono smantellare un esperimento, si parla tanto di sicurezza, ma da lì si parte, cioè da smantellare le situazioni di rischio. C'è un esperimento che si chiama LVD che dovrà essere smantellato per legge e anche su richiesta della regione dal 2018, siamo nel 2024, sono passati sei anni, i laboratori non l'hanno smantellato, ne hanno smantellato solo un altro, di cui noi chiedevamo Borexino, che quello è stato allontanato. Allora perché invece LVD questo esperimento con mille tonnellate di nasa dentro al Gran Tasso rimane lì? Poi ci sono tutta un'altra questione legata ai nuovi progetti di messe di sicurezza, fatti da un altro commissario, Corsini, che vuole fare interventi, anche questi molto impattanti, che sono sicuramente importanti per la messa in sicurezza, però devono essere fatti senza avere il potenziale di inquinare le acque. E invece scopriamo dei documenti che siamo noi a divulgare, che invece dicono che si progettano interventi con drenaggi che vanno a intercettare le acque, a captare le acque, e l'ente parco scopriamo che a settembre ha dovuto scrivere una lettera durissima nei confronti degli altri enti, dicendo che il progetto non presentava neanche ipotesi di mitigazione dei rischi, presentava anche iniziative che violavano la legge, perché nei parchi è vietato fare nuove captazioni di acqua, andando a doperare ulteriormente l'acquifero del Gran Tasso che è già stato pesantemente impattato. Se questo è il modo di procedere per la messa in sicurezza, insomma abbiamo paura addirittura. Quindi noi riteniamo che intanto la politica debba riprendere un po' in mano il discorso, noi diciamo che i commissari non ci hanno mai convinto, passano anni e non si fanno interventi, eppure sono commissari straordinari, noi riteniamo che siano gli enti a dover risolvere le situazioni, devono essere responsabilizzati, devono pubblicare e far circolare tutti i documenti con la massima trasparenza e almeno noi diciamo no quindi ai commissari, ma almeno fanno solo uno, cioè se proprio c'è bisogno di un commissario è incredibile che ce ne siano addirittura due sulla stessa infrastruttura. È una questione che neanche a Bisanzio avrebbero affrontato in questa maniera.